Anche Stefano Armenante e Leonardo Filizzola della Spes Praia Volley sono stati convocati nella rappresentativa regionale calabrese maschile per partecipare al trofeo delle regioni Chinderia di 2015 Messina-Costa Tirrenica. I due giovani classe 1999 si sono già distinti nel corso dei campionati Under 17, 19 e di Serie C calabrese. Schiacciatore e centrale si sono rivelati fondamentali per le tre squadre praiesi, tanto che mister Pavone li ha voluti anche per questa competizione. Si parte quest'oggi. Alle ore 17 e alle 18 e 30 la rappresentativa calabrese nel girone C affronterà Basilicata e Veneto. L'ordine delle gare dipenderà dal risultato dello scontro diretto tra queste ultime previsto per le 15 e 30. La Calabria affronterà prima la perdente, poi la vincente. Entra dunque nel vivo la 32esima edizione del trofeo delle regioni. Ieri pomeriggio il via con la cerimonia inaugurale. Quasi 700 gli atleti che hanno sfilato dietro i rispettivi portabandiera in rappresentanza delle 21 delegazioni provenienti da tutto lo stivale. Ospite d'onore è il grande Lucky Lucchetta, esempio per i tanti giovani che vorrebbero ripercorrere la sua carriera. Cinque giorni di grande volley giovanile dunque, sette gironi, sette campi, 42 rappresentative, 42 incontri in programma nella sola giornata odierna, suddivisi in base al ranking nazionale stabilito dai piazzamenti ottenuti dalla regione negli ultimi tre anni. I risultati di questo primo giorno determineranno la prima gradatoria con 32 formazioni, 16 maschili e 16 femminili e dunque l'eliminazione delle prime dieci squadre che si affronteranno in due gironi consolatori che stileranno la classifica che andrà dal diciassettesimo al ventunesimo posto. Da domani i campi diventeranno quattro, così come i gironi. La Calabria punta a fare bella figura e almeno a ripetere il risultato delle chinderie di 2014 quando si è piazzata al nono posto. Partiamo sicuramente per migliorarci sempre, abbiamo ottenuto un bel nono posto l'anno scorso, riconfermarlo sarebbe già un grande risultato perché ci terremo sotto alcune regioni molto più accreditate di noi. Per cui partiamo convinti della nostra forza e ripartendo sempre da dove abbiamo lasciato l'anno scorso. Grazie a tutti.